ragazzi io mi sono immersa, mi sono immersa nello schiuma party mi sono immersa nell'atmosfera di Villa Paraiso qui a Termoli oggi venerdì 12 giugno, godetevi il servizio Tania, Like TV Continua così il nostro viaggio attraverso il grande divertimento è venerdì sera ma non è un venerdì sera qualunque è un venerdì sera di inizio estate e questa settimana da Termoli in Molise Like TV fa conoscere al grande pubblico l'atmosfera e il divertimento di Villa Paraiso Voi siete i portavoci nonché gli animatori di questa serata come la state vivendo e come vivete ogni serata con il vostro staff? Guarda, per noi ogni serata è un'occasione di comunque fare del movimento perché insomma qui sulla costa c'è il mare, la spiaggia i ragazzi l'estate si vogliono divertire Bene, è un divertimento essere lì, nel senso se non ci fosse la passione non ci sarebbe neanche il resto i nostri coetani potete vedere il risultato, è una sala piena Quando si riesce a unire passione e divertimento il risultato è sempre il massimo quindi sono contento di quello che sto facendo e spero di poter migliorare nel tempo anche perché i risultati finora si sono visti spero insomma di poter migliorare Come location è suggestiva all'aperto comunque? Sì, infatti è una particolarità di questo locale che molti pensano si trova a Termoli si trova a Termoli quindi sia sul mare invece no, è proprio all'interno di un bosco quindi è un posto veramente molto suggestivo poi abbiamo preparato proprio una scenografia, una coreografia di luci all'esterno del locale proprio per rendere anche proprio al cliente che arriva insomma già l'accoglienza qualcosa di particolare Allora io sono in compagnia di Francesco noi l'abbiamo conosciuto quest'inverno con un altro school party, un altro party che comunque ha avuto successo come questo qua è comunque una grande festa una grande location Villa Paraiso Allora Francesco tu sei l'organizzatore di questi school party la scuola è finita e comunque porti i tuoi coetanei a divertirsi l'abbiamo testimoniato e continuiamo a testimoniarlo Sicuramente abbiamo creato un grande staff con altri ragazzi che sono adesso che girano nella pista e per fare in modo che appunto per dare spazio anche ai giovani che comunque non trovano tanto spazio per ballare il sabato sera essendo questo un locale molto più per gente più grande abbiamo deciso comunque di organizzare uno school party per festeggiare la fine dell'anno scolastico e non c'era modo migliore di farlo con uno school party abbiamo fatto comunque un misto per accontentare un po' tutti i generi musicali sicuramente la nostra principale attrazione è lo schema party nel bordo piscina che è un privé esclusivo del locale e lì faremo lo schema party con musica commerciale ed house però giustamente cerchiamo di accontentare tutti i tipi di generi Io ti ringrazio e sicuramente avrai da fare con tutte le mansioni che si addicono a un grande organizzatore seppur in giovane età e quindi lasciamo Francesco, io ti ringrazio vai a divertirti, vatti a godere questa serata che ti meriti è anche il mio compleanno, il diciannovesimo ragazzi auguri, quanti anni fai? 19 ancora perfetto ragazzi, quindi buon compleanno Francesco e godiamoci Villa Paraiso ragazzi, ciao Tutto il divertimento di Like TV tornerà tra poco, resta con noi Dance Travel Europe per il sesto anno consecutivo ti porta all'evento mondiale dell'estate Strip Parade 2009, Zurigo, Svizzera Con noi, 4 giorni in interrotti di musica, spettacoli ed eventi 25 Love Mobiles, 4 stage, 100 pre-post parade, 200 DJ show Tiesto, Paul Van Dyck, Sven Van, David Guetta, Felix Crocker, Giuseppe Ottaviani Dave 202 Partenza venerdì 7 agosto in autobus di piano Per lottamento in hotel 4 stelle per 3 notti Rientro 10 agosto Disponibili solo 80 posti 300 euro tutto compreso entro il 5 luglio 325 euro dopo il 5 luglio Info prenotazioni 333 36 72 811 085 20 58 46 8 www.dancetraveveeurope.com